Ciao a tutti. Bene, in questo nuovo video vorrei parlare un po' di quello che a volte è un problema, anche se apparentemente potrebbe sembrare una qualità di un rapporto, che può essere un rapporto affettivo, semplice, quindi tra amici, tra colleghi di lavoro, può essere un rapporto sentimentale, e che è la gelosia. La domanda, anzi, due domande che vorrei farti è, credi che la gelosia sia una conferma da parte di chi ti ama? Oppure credi che una persona psicopatica e gelosa faccia bene al tuo rapporto, qualunque questo sia, ovviamente un rapporto? Bene, innanzitutto ti dico subito che essere gelosi di tutti o di tutto mette immediatamente la persona gelosa in un piano inferiore, quindi chi è geloso diventa al piano inferiore rispetto alla persona verso cui si è, si prova questo sentimento di gelosia. Perché? Perché la gelosia è la massima espressione della propria insicurezza. E purtroppo la gelosia non fa altro che distruggere i rapporti, perché porta una persona a provare, cioè chi subisce la gelosia diventa così toccato da questo, a volte da questa esagerazione, e pensa di non avere la giusta fiducia che magari dovrebbe avere in questo rapporto. perché più delle volte la gelosia è anche ingiustificata, no? Si è gelosi non su fatti reali, ma su fatti che si vanno ovviamente a immaginare, a costruire tutto a livello mentale. Per carità, voi direte che quasi tutti sono stati o siamo stati gelosi nella nostra vita. Per carità, può darsi. Però qual è il problema della gelosia? Perché nasce la gelosia? La gelosia nasce perché si ha paura di perdere qualcosa o qualcuno. E questo sentimento normalmente coinvolge, quando si parla di persone e non di cose, almeno tre persone. Quindi noi che abbiamo gelosia, la persona verso cui siamo gelosi e che abbiamo paura di perdere, è un'eventuale terza o più persone che vogliono, o crediamo che vogliono, portarci via la persona che noi amiamo. Purtroppo esistono dei concetti errati. Concetti errati che arrivano da frage, che sicuramente avrete sentito dire, tipo Ah, ma se sei geloso vuol dire che ti ama. Oppure, soprattutto questo lo dicono i gelosi e i manipolatori, preoccupati quando smetterò di essere geloso, perché vorrà dire che non sono più innamorato di te. Tutti abbiamo sentito o pronunciato frasi del genere. Tuttavia, posso dire che la gelosia non è un sintomo di amore, come invece vi hanno fatto credere. È invece un sintomo di possesso. Io ho paura di perdere qualcosa a qualcuno. Non è amore, è possesso questa cosa qua. Ed è una risposta emotiva, così più delle volte incontrollabile, che arriva proprio da questa paura di perdere qualcosa e soprattutto qualcuno. E più delle volte questa paura non è nemmeno fondata su fatti reali. È una paura che ci costruiamo a noi, a prescindere. Potremmo avere di fronte la persona più tranquilla, più sana, più onesta di questo mondo, ma nonostante tutto noi abbiamo paura di perderle. Perché? Perché siamo insicuri. Ecco che, soprattutto le persone insicure, cosa cercano di fare? Cercano di esercitare un controllo sull'altra persona. Proprio perché c'è questa paura infondata, insita dentro di noi, di perdere. C'è questo timore di perdere. Questo senso di possesso, come se noi dovesse ottenere a tutti i costi qualcosa. Questo succede soprattutto se la persona che prova gelosia è stata precedentemente scottata, magari da situazioni in cui c'è stata infedeltà, in cui, infedeltà non solo tra un legame sentimentale tra uomo e donna, ma anche infedeltà tra amici, tra colleghi di lavoro, ovviamente. Cioè, pensiamo che questa situazione, la situazione di gelosia, si può avere su tante cose. Quando si andano poi sugli oggetti, è peggio ancora, è proprio un attaccamento incredibile. Ecco che, però, dietro alla gelosia, si nasconde in realtà qualcosa che non esiste. Ci si aggrappa un po' i vetri, e soprattutto frutto di questa esagerazione provocata dalla nostra immaginazione, perché di base si è insicuri. Ecco che la gelosia è, non nient'altro, che l'idea sbagliata è che qualcuno ci possa appartenere, o qualcosa ci possa appartenere, soprattutto se qualcuno adesso ci appartiene, ci deve appartenere per sempre. Se invece noi rinunciassimo a questa idea di possesso, rinunciassimo a l'idea che le persone non sono nostra proprietà, non sono nostre, e se stanno con noi e per una loro scelta, una loro volontà, la gelosia ovviamente non esisterebbe. Purtroppo l'essere umano è cresciuto in un ambiente in cui c'è la tendenza proprio ad appropriarsi di quello di cui si ha bisogno. Ci impossessiamo delle cose perché ci piacciono, perché ci fanno stare bene, perché ci fanno divertire, e vogliamo farne uso ovviamente quando ci pare e ci piace. Nello specifico poi dei rapporti di persona, soprattutto nei rapporti di coppia, dove si conta un maggior numero di casi, di gelosia ovviamente, si dovrebbe invece dare più peso ai sentimenti e alle opinioni di entrambi. Questo vuol dire che avranno poi lì un equilibrio. Bisogna pensare che un vero amore è libertà. Non è il possesso. Amare qualcuno vuol dire lasciarlo libero di esprimersi e di essere se stesso in ogni occasione. È errato il concetto che noi siamo mezza mela, l'altra mezza mela, quando la incontriamo, oh che bello la mela si completa. No, siamo due entità uniche e complete, così come siamo. Una mela incontra un'altra mela. Non c'è completamento. Non c'è bisogno di completarsi. Anzi, se noi pensiamo di doverci completare con qualcuno, vuol dire che ci sentiamo inferiori. Vuol dire che non siamo autosufficienti. Non sappiamo bastarci. Ecco che la dimostrazione più grande invece di amore è quella di libertà. Di donare libertà a se stessi soprattutto e soprattutto donare libertà alla persona che si dice di amare. E quindi abbandonare quella che è l'eccessiva paura di perdere quella persona. È una paura che, come ho detto prima, il più delle volte è fondata su fatti che non sono assolutamente reali. Il più delle volte la paura di perdere qualcuno è qui, nella nostra testa. Non esiste in realtà. Ce la inventiamo. Allora, invece di soffocare l'altra persona, invece di rovinare la vita a noi stessi, di rovinare la vita all'altra persona, di creare inclinature in un rapporto che potrebbe funzionare, lavoriamo su noi stessi. Impariamo a essere liberi dalla paura, liberi da questo senso di possesso. Impariamo a essere completi così come siamo. Impariamo a stare bene da soli, stare bene con noi stessi. E impariamo a capire che l'amore è assoluta libertà. Questo è veramente fondamentale. Beh, ovviamente non tutti magari ci riescono da soli a arrivare a questo equilibrio, a questa consapevolezza, a metterle in atto. Bene, noi siamo qui per questo. Sotto trovate tutti i miei riferimenti. Per qualunque cosa, non esitate a contattarmi. Sotto c'è scritta la mail. Ovviamente, per casi particolari, delicati, personali, scrivetemi una mail. Non scrivete qui sotto, sul canale YouTube, perché i commenti sono graditi sicuramente, ma in senso generale. Non do mai risposta e personalizzata, ovviamente, per privacy nei commenti del canale YouTube. Bene, al prossimo video, ci vediamo presto. Ciao!